Musica Parlare di Mario Fantini, artista e personaggio Lo considero quasi un privilegio anche se sono un critico d'arte di lunga e stagionata carriera Perché è raro nella presentazione di mostre d'arte incontrare un artista come Mario Fantini Mario Fantini lo considero l'appendice estrema del rinascimento toscano 500 anni di storia che si sono prolungati fino ai giorni nostri Perché intanto è una pittà tutto lontano, una pittà che si è esibito in tutte le varie forme d'arte Pittura, scultura, design, design industriale E sempre sono risultati straordinari Se devo parlare di Mario Fantini, pittore Devo dire che io non avevo mai visto i quadri di Fantini prima di oggi Ho visto un artista che quantunque fantastico Qualcunque persona che guarda oltre, fuori da quello che è il limite, il rigore Però un artista che è sempre presente a se stesso Quella grande lezione di rinascimento che l'ha formato Resta in tutte le sue opere Perfino in certi dipinti astratti che ho visto quella Cioè questo rigore del segno Questa precisione Questo privilegiare la forma Sembra che questa mostra sia fatta da un giovane pittore Che contesta le strutture di oggi Contesta ciò che c'è di sovvertito Di annullato dei nostri valori e della nostra società E sembra la mostra di un giovane che contesta i valori Un binario di contestazioni E invece no È la mostra del Signore Che ha uno spirito talmente giovane Perché ha una sorgente continua di creatività E le sorgenti che scaturiscono dal Dio, dal cielo Sono due della natura e non si annullano in male Perciò complimenti perché questa è la mostra Di un giovane contestatore dei valori di oggi Grazie Sono Anna Balsamo Non scrivo critica d'arte Più come opinionista Ma insomma Molti sono gli artisti Che mi richiedono Molto gentilmente a parte loro Ho questa adesione degli artisti E scrivo poesie Sono stata per 11 anni Vicepresidente del Sodalizio La Camerata dei Poetti Che è un Sodalizio Che fu fondato negli anni 30 A Firenze Dunque Anch'io condivido molto Delle questioni del professore Perché intanto Tutti quanti abbiamo incontrato Un giovane stasera Perché C'ha da insegnarci Tanto di quella ideazione nuova Di quelle proposte nuove Che forse Per colpa dei corsi e dei ricorsi Come diceva Giovanni Battista Vico Ci siamo dimenticati Le finalità del novecento Le abbiamo lasciate indietro Invece Le dobbiamo recuperare Per non essere Soffocati Oggi o domani Da inutili accademie Ora è notevole Come effettivamente Come effettivamente Lui sappia tradurre nella sua arte I temi rinascimentali Quali erano i temi rinascimentali Oltre che le grandi cattedrali I battisteri I campanili I campanili I campanili I campanili Congegnati Congegnati Nelle masse muscolari E dinamiche Nel movimento del corpo E la signora è stata 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 E ha subito espresso Dice Guarda C'è il materiale per una mostra Io non ne volevo più fare mostri Perché sono troppo stancati Dalla mia data Perché a me si è un po' E gli amensi Ma data la bravura Di lui e di suo figlio E ancora là Ho potuto realizzare Questa mostra Che era più Che gli sia piaciuta E gli prometto Che se c'è il tempo Ne farò un altro Ho conosciuto prima le opere Del maestro Ad asti di beneficenza Le quali abbiamo partecipato insieme E poi Per una fortunata coincidenza Ho conosciuto l'artista E naturalmente Mi sono innamorata Del suo lavoro Perché è un lavoro Che ha radici lontane Ha profondità Ha un segno di un vissuto Un vissuto molto bello Che declino in varie parti Come del resto È stata l'opera Di un altro lungo Artista Dalla lupa carriera Perché tutti gli artisti Che hanno alle spalle Una grande carriera Poi la tranciano In varie parti E naturalmente L'accosto A Picasso Ma senza Senza farne un Un contracolpo Diverso Perché Picasso Ha le sue maniere Infatti ne ha altre Però Entrambi hanno Un lavorato Alle spalle È enorme E manualità Da vendere A Fantini Gli rimprovero Di non aver continuato L'arte binaria Del grande designer Che è stato Per Gucci Per Gucci E per altre Fibre Prestigiose E il suo Iter Di pittore Perché lui È uno dei grandi Di differenze Anche nel mondo Della pittura Perciò Fantini Benvenuto di nuovo Nelle poste Delle gallerie Io sono una Galleria Particolare Perché io sono Un artista Come te Sono un amante Dell'arte E spingo tutte le persone Che Nelle quali trovo La vera arte Come hai te Nelle mani E nel cuore Ti auguro ancora Migliali di successi Grazie Grazie Grazie